E adesso il nostro prossimo ospite in studio abbiamo con noi Roberto Tonelli con la maglietta del Milano of Fringe Festival del quale noi siamo media partner e l'abbiamo già presentato ovviamente perché ci teniamo tanto però oggi sei venuto a raccontarci una cosa un po' speciale. Buongiorno intanto e benvenuto a Mattino Lombardia. Allora intanto dobbiamo parlare dell'associazione Difesa Donne Noi Ci Siamo che è presente diciamo al Fringe e con uno spettacolo dal 5 al 8 ottobre tratto da un tuo romanzo proprio con l'adattamento alla regia di Alice Grati per lo spettacolo ed è credi davvero che sia sincero è lo spettacolo al museo del fumetto. Da dove vuoi cominciare? Abbiamo tante cose da raccontare. Ma sì allora direi di iniziare col parlare dell'associazione Difesa Donne Noi Ci Siamo che ho fondato insieme alla signora Maria Teresa Dabdon che è la mamma di Monica Ravizza che era un'amica di mia moglie della quale due settimane fa sono ricorsi 20 anni purtroppo dal suo femminicidio e Monica era un'amica di mia moglie e quindi appunto io ho scritto questo libro con l'omonimo titolo e da questo abbiamo deciso di trarre uno spettacolo teatrale appunto che abbiamo portato nelle scuole, negli oratori, insomma in vari contesti dove diciamo grazie all'associazione insieme e soprattutto la testimonianza a seguito dello spettacolo della signora Maria Teresa abbiamo deciso di lavorare proprio sulla prevenzione contro la violenza di genere perché ci sono tanti segnali ricorrenti e abbiamo proprio toccato con mano soprattutto insomma nelle scuole dove siamo stati di tante ragazze ma anche ragazzi che ci hanno fermati e insomma ovviamente noi collaboriamo anche con dei centri antiviolenza che sono fondamentali ma sappiamo benissimo che purtroppo in tante occasioni le ragazze o non ci arrivano o ci arrivano quando è troppo tardi quindi per noi è proprio la valenza ecco di lavorare su questi segnali che sono appunto il fatto che purtroppo tanti uomini usano fare terra bruciata intorno a quelle che ritengono proprio le loro compagne mentre si è come proprietà e quindi la allontano dalla famiglia, dagli amici cercano di controllare in tutto e per tutto quello che fanno queste ragazze, spesso le sviliscono, le umiliano che ovviamente dal mio punto di vista di uomo è qualcosa di inaccettabile però spesso sono le vittime che si sentono in qualche modo colpevoli, responsabili e hanno paura di poi di condividere questa situazione che vivono e bisogna fare proprio già nelle scuole tanta prevenzione quindi noi siamo ascoltati tanto anche dalle insegnanti, dalle presidi come fanno a contattarvi per portare queste tematiche nelle scuole? ma allora noi abbiamo una pagina su facebook che è proprio l'associazione Difesa Donna e noi ci siamo, c'è il sito www.difesadonne.com e appunto è proprio quello che vogliamo fare perché diciamo che io l'avevo già fatto nel libro nel senso che avevo raccontato le stesse scene da entrambi i punti di vista sia di lei che di lui il libro lo ricordiamo e credi davvero che sia sincero, ricorda la casa editrice perché poi si trova ancora certo, la Bertoni editore ed è una cosa che abbiamo deciso di riproporre anche in scena nel senso che in qualche modo è l'uomo il protagonista attorno al quale ruotano lui si chiama Antonio e attorno a lui ruotano le figure femminili di Martina che insomma poi sarà purtroppo la vittima però anche l'avvocatessa e la psicoterapeuta che l'hanno seguito in carcere e diciamo che ovviamente noi il mettere al centro lui non è in nessun modo assolutorio né qualcosa che giustifichi le sue azioni ma quello che vogliamo fare è far vedere come agisce, come funziona la dinamica in una coppia tossica e un manipolatore cioè la cosa che mi ha colpito la prima volta che ho visto questo spettacolo è il fatto che Francesca Macci che appunto interpreta Martina è entrata sul palco, allegra, solare, insomma come hanno raccontato tutti che fosse Monica e poi sotto l'influenza di questo Antonio che è impersonato da Nino Faranna in qualche modo si va a spegnere cioè perde tutto l'entusiasmo, perde proprio la voglia, l'iniziativa infatti la prima cosa è che le donne riconoscano che tipo di partner hanno accanto e soprattutto se è un narcisista, un manipolatore o una persona assolutamente tossica bisogna partire proprio da qui c'è ancora tanto lavoro da fare perché i fatti di cronaca purtroppo ci fanno capire che siamo molto lontani da tutto questo facciamo così, ascoltiamo un pezzo e poi entriamo nello spettacolo dal 5 all'8 al Museo del Fumetto avete scelto anche una location particolare che però è una delle tante dove si possono vedere gli spettacoli del Milano Off Fringe Festival adesso Electric Light Orchestra Hold On Tight e poi torniamo con Roberto Ottonelli a parlare dello spettacolo tratto dal suo libro Credi Davvero Che Sia Sincero e adesso torniamo a parlare con Roberto Ottonelli siamo partiti dal suo libro Credi Davvero Che Sia Sincero all'Off Fringe Festival di Milano dal 5 all'8 di ottobre al Museo del Fumetto ci sarà uno spettacolo tratto appunto da questo romanzo quindi è presente l'Associazione Difesa Donne noi ci siamo entriamo un po' nello spettacolo come è stato messo in scena Alice Grati e la regista? Sì, in realtà è capitato per caso nel senso che Alice mi ha fatto una presentazione una sera e ho sentito che stava parlando della sua attività di regista appunto e di sceneggiatrice e quindi così gliel'ho buttata lì perché appunto eravamo già stati nelle scuole e insomma ho pensato che potesse essere uno strumento il teatro più efficace, più immediato cioè far vedere ai ragazzi un po' come funzionano queste dinamiche e Alice ha subito aderito direi con entusiasmo ha coinvolto Francesca Macci e Nino Faranna che appunto poi sono sul palco e devo dire che questa idea che è nata così appunto per caso è andata molto al di là delle nostre aspettative nel senso che abbiamo già realizzato 15 repliche a cui hanno assistito circa 2700 spettatori che più che numeri così come dire per farsi belli è proprio una testimonianza concreta del fatto che poi ogni volta appunto poi alla fine interviene anche la signora Maria Teresa quindi insomma sono sempre momenti molto sicuramente forti ma è importante perché poi vediamo il riscontro immediato perché poi il teatro ti dà anche questo vedi le facce con gli occhi lucidi vedi insomma la commozione la tocchi proprio con mano e spesso appunto poi ci si avvicinano delle persone che ci portano le loro storie quindi è sicuramente un'attività poi che stiamo portando avanti ma che vogliamo anche condividere con altre realtà in particolare ci tengo brevemente a dire che anche nel Fringe Festival abbiamo coinvolto ogni sera saremo giovedì, venerdì, sabato e domenica giovedì ci sarà Lampi 25 aprile venerdì ci sarà l'associazione Ala anche loro impegnati nelle scuole sabato ci saranno i Guida Senza Patente che sono dei genitori che combattono gli stereotipi di genere per intenderci se un papà fa il papà non è il mammo che sembra una banalità ma non lo è affatto e poi ci sarà Francesco Migliazza che è un comico di Zelig perché comunque vogliamo anche insomma poi alleggerire si portare diciamo delle tematiche esatto e poi domenica chiuderemo con la Fondazione Somaschi che è un centro antivelenza con cui abbiamo collaborato diverse volte quindi ecco per noi è anche importante è un tema talmente grande talmente vasto come dicevi prima tu talmente tanto lavoro da fare che l'unione può sicuramente fare la differenza e noi quando si può parlare di questo chiaramente lo facciamo qui a mattino Lombardia dal 5 all'8 al Museo del Fumetto credi davvero che sia sincero è stato con noi Roberto Ottonelli con la maglietta del Milano Fringe anche la locandina ecco ecco perfetto la facciamo vedere perché ci state guardando anche in tv scaricate l'app che abbiamo tanti contenuti anche per la tv Milano Off Fringe Festival grazie buona giornata buona settimana salutiamo gli amici che invece ci salutano poi commentano le cose di cui parliamo al 339 266 38 25 via Whatsapp e salutiamo Willy che dal lavoro ci sta ascoltando un po' così di nascosto perché non tutti possono ascoltare la radio come invece possiamo fare noi mentre lavoriamo lavoriamo va bene brand new have a set